grazie eccomi qua oggi sono venuto adesso vi faccio vedere una cosa dove sono arrivato oggi intanto una buona serata a tutti vi presento un po dove sono arrivato oggi eccoci qua siamo all'aperto la sauna questa è un po' la facciamo come se fossimo d'estate no? siamo all'aperto e c'è un po' di un po' di fresco perché comunque siamo credo 2 gradi sotto 0 3 gradi sotto 0 sono venuto un po' a rilassarmi nelle terme di Watkins una città circa un'oretta da dove abito io da c'è i coschi e sono aperte tutto l'anno inverno dove soprattutto sono abbastanza abbastanza sono abbastanza frequentato poi chiaramente adesso non vi posso fare vedere più di tanto c'è un po' di gente quindi però c'è la piscina l'aperto calda chiaramente l'acqua perché l'acqua chiaramente è calda come si può vedere dai vapore poi abbiamo la sauna finlandese qui dietro c'è un bagno russo dove ci si fa solo il bagno chiaramente russo tipo sauna diciamo nostra e poi c'è quella giapponese questa è la prima parte del video dopo vi faccio vedere il resto intanto vado a rilassarmi ancora un po' paka paka adesso sono arrivato non si vede dove non mi si vede perché sono entrato nella sauna finlandese adesso vi faccio vedere giusto un attimo qua è l'entrata qui ci si ferma un attimo quando si è fatto il sun e questo è l'interno che è abbastanza caldo faccio vedere siamo circa a 82 gradi con 32% di umidità questo è quello che è qui dentro la sauna visto che non c'era nessuno ne ho approfittato per farvi vedere come siamo continuiamo il tour adesso qua vediamo dall'alto e vi voglio far vedere una cosa particolare questa è una casetta dove si va dentro adesso qui si va dentro ed è riscaldato perché siamo all'esterno e c'è il tè non si vuole bere e si rilassa qui una cosa particolare guardate un po' ci staviamo fuori e si troviamo fuori come vedete siamo all'esterno e come vi ho detto c'è meno 3 o meno 4 gradi quindi adesso si sta abbassando qui dentro la temperatura abbassando il semento lo faccio vedere fuori l'anno scorso mi dicevo sono venuto l'anno scorso l'inverno era dicembre e c'era molto più freddo a livello di gradi ma la differenza tra l'acqua calda e l'esterno si sentiva si stava meglio per assurdo questo è un po' l'altro visuale a dopo eccoci qua ragazzi siamo arrivati alla fine della serata ci siamo rilassati queste sono le terme di Watkins come dicevo prima questo è il parcheggio si c'è un po' di gente e va e viene comunque essendo un posto le terme si paga ore diciamo che sono circa una persona un'ora 150 rubli in euro in euro ci devo fare i conti adesso non lo ricordo comunque sono 150 rubli in un'ora diciamo che stare qui oggi ho speso 600 euro circa tra una cosa e l'altra mi sono rilassato siamo divertiti è bello piacevole stare qui adesso però vado a casa perché stare fuori se non torni nell'acqua calda o comunque dentro la sauna fa freddo vi saluto ci sentiamo nel prossimo video e paka paka